buongiorno volevo dirvi che ho cancellato il video per quanto riguardava tre ragazzi e due ragazze il segno della violenza perché ho fatto ora che sono partita una urbex strepitoso nella villa del circeo quindi ho voluto inserirlo nel video e inoltre ho trovato una favolosa intervista che aveva fatto donatella con la santi con tutti i particolari della sua bruttissima avventura in quella villa quindi ho voluto implementare il racconto con questi nuovi elementi e spero che vi piacerà e vi interesserà molto quindi c'è un urbex favoloso certo la villa non è ripresa all'interno perché come si noterà le piante sono ancora curate in qualche modo principalmente quelle dietro i cancelli e questo vuol dire che c'è qualcuno che va a controllare e questo fa un po paura visti anche i trascorsi quindi godetevi la visione e lo carico subito sul canale a presto